Ciao a tutti, siamo con Rafael Gualazzi. Ciao Rafael. Ciao a tutti. Allora, quest'anno presenti sul palco dell'Ariston un pezzo carioca, una ventata di colore, di positività, di energia. Com'è nata questa canzone e cosa ci puoi raccontare? Questa canzone nasce dalla collaborazione con il produttore Dade per quanto riguarda la parte musicale e Davide Petrella per quanto riguarda la parte testuale. Carioca è una parola che racchiude in sé tutto l'immaginario esotico e quindi tutti i colori poetici del Sud America. Per questo l'abbiamo scelta. In realtà non c'è una diretta corrispondenza tra questa parola e la musica, perché la musica è una musica cubana che si fonde con delle sonorità urban. Quindi come sappiamo uno degli stili brasiliani è il samba, quindi non c'entra tanto con la parte. Però carioca ci sembrava bella come parola perché in una parola sola racchiude questo senso esotico. Carioca è anche però una parola che descrive una filosofia, la filosofia degli abitanti della città di Rio de Janeiro. Loro vivono una vita giorno per giorno, si concentrano sul presente. Quindi è molto importante la valorizzazione del presente e questo è un concetto che ho voluto sviluppare nella canzone dove il ritmo e la musica e la danza fungono da riparo, da evasione, allo stesso tempo da sublimazione di tutti i chiaroscuri della vita. Allora, in questi anni ci hai abituato ad emozionarci con le tue performance. Anche quella di ieri sera è stata un'emozione pura. Quando è che si emoziona invece Raffaele Gualazzi? Ma in realtà forse non si vede, però mi emoziono anch'io quando suono. Insomma è un momento di grande gioia e grande intensità. E poi sicuramente mi emoziona anche quando ascolto della bella musica e sento dei grandi interpreti musicali. E quali sono quelli che preferisci? Proprio che quando li ascolti o quando senti la loro musica dici, oddio, veramente è meraviglioso. C'è una canzone per esempio che non mi stuferò mai ad ascoltare che si chiama A Song For You e nella interpretazione di Donny Hathaway o che ne so, c'è un'altra di Ray Charles un'interpretazione del brano That Lucky Old Son che è veramente incredibile. E ci sono tante ballad che sono affascinanti, è inutile dirlo. Anche nel repertorio italiano c'è l'imbarazzo della scelta. C'è un ricordo di quando eri bambino, magari da bambino vedevi Sanremo, che ti è rimasto nel cuore? Dunque, particolarmente il primo ricordo che ho di Sanremo è quel brano dove c'era questo trio vocale molto bello Tozzi, se non sbaglio, Ruggeri, non mi ricordo qual era il terzo, Morandi e si può dare di più, esatto. E mi ricordo questo, come mi aveva colpito particolarmente quando ero bambino. E invece la tua canzone proprio preferita di tutte le edizioni del festival? La mia canzone preferita è sicuramente Volare. Benissimo, grazie mille, in bocca al lupo e complimenti. Grazie di cuore. Grazie mille, grazie mille.